mi piacerebbe raccontare una piccola storia che sempre racconto qui in italia ho raccontato tante volte la prima volta che roman jacobson il grande linguista russo ha visitato harvard l'università di harvard ha stato ricevuto per il presidente dell'università che lui ha detto signori jacobson mi hanno detto che lì parla 14 lingue e lui risposto sì è vero ma le parlo tutte in russo allora io parlo italiano ma le parlo in spagnolo come parlo inglese come farlo francese eccetera eccetera mi scuso questa domanda che hai fatto è molto interessante perché questa domanda è infatti la domanda fra una domanda fra la convivenza nella stessa persona del romanziere e di quello che oggi diriamo l'intellettuale una parola che io quando era giovane detestava assolutamente cioè io non voleva essere un intellettuale assolutamente no io voleva essere uno scrittore post moderno post nord americano se possibile ma è vero che io sono cioè che cosa un intellettuale finalmente alla fine un intellettuale è un uomo che che è uno scrittore con giornalista che un architetto che una no e che partecipa al alla vita civile no che che per esempio nel mio esempio è molto semplice io scrivo due io non sono giornalista ma io scrivo due volte due volte al mese e nel paese un giornale italiano un po come la repubblica come come il corriere no e io scrivo come come person come cittadino io non sono non sono uno storico non sono un politico non sono militante un partito politico non sono un politologo niente sono un cittadino che paga le sue tasse e che ha le sue opinioni come tutto il mondo sulle cose della della vita no sulle e allora il 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 romanziere e diciamo l'intellettuale cioè il cittadino sono due persone diverse direbbe opposte perché il romanziere lavora sempre con l'ambiguità con la complessità con le paradosse con l'ironia queste sono le verità romanzesche sempre cioè il romanzo è stato inventato da un uomo che si chiamava miguel de cervantes che incredibilmente era spagnolo è vero era spagnolo e il centro del romanzo della forma di conoscenza del romanzo è l'ironia e che cosa è l'ironia è molto semplice don quixote completamente pazzo totalmente pazzo dovrebbe essere in un asilo no si lo si dice un ospedale no pazzo ma allo stesso tempo è un uomo straordinariamente intelligente chi capisce cose straordinarie che che è capace di parlare con grande intelligenza delle cose più complesse questo l'ironia don quixote è un personaggio ridicolo comico ma allo stesso tempo la gente ride di lui logico sì ma allo stesso tempo è è un eroe un vero eroe no questa contraddizione questa ironia è la base del romanzo queste sono le verità del romanzo sono sempre verità il romanzo cerca sempre queste questa complessità quello che vuole il romanzo è mostrare che la realtà è ancora più complessa che noi pensiamo cioè che un fascista è anche un fascista è un orrore ma è un uomo è anche un uomo no e che un uomo è un buon uomo può fare delle cose terribili allo stesso tempo mostra sempre la complessità morale la complessità politica la complessità un romanzo nei suoi libri non dice mai sì no mai sempre dice sempre il grigio sempre mostra che nel bianco c'è il nero e che nel nero c'è il bianco eccetera 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 ma una persona davanti una cosa che è ingiusta o che lui pensa che è ingiusta lui come persona può può essere assolutamente le sfumature può può parlare delle sfumature può può capire tutto evidentemente ma alla fine deve dire sì o no quando le situazioni sono dure quando le si alla fine lui ha il dovere di dire no questo non è bene questo non si fa e questo sì il momento che tu hai detto che tu hai evocato in questo momento raccontato ha stato il momento più duro della mia vita e credo che della vita dei catalani in generale te lo diceva nel momento nell'albergo io soltanto ho avuto due volte il sapore nell'atmosfera ho sentito l'odore un odore di pre guerra civile un odore terribile due volte nella mia vita una mi 23 febbraio 1981 nell'ultimo colpo di stato classico con le armi questo ho scritto un libro su questo che si chiama anatomia di un istante che sicuro la gente che ha una certa età ricorda parlamento spagnolo i militari entrando al parlamento spagnolo sparando ci sono immagini di questo sono delle immagini straordinarie quel giorno l'ho sentito io ho scritto un libro molto lungo su questo e l'altro momento è stato questo questo è settembre ottobre 2017 e io evidentemente capisco quella gente che ha fatto questo ma quello che facevano non era bene è un immenso errore e perciò io ho detto no e credo che era come cittadino io stava obbligato a dire questo e sì è una forma se io devo definire che cosa è successo in quel momento è un saggio di direbbe autocolpo di stato perché quelli che facevano quello erano stato era la generalità cioè lo stato il potere catalano un autocolpo di stato post moderno perché non è un colpo di stato post moderno come 1981 con le armi no era con la televisione con il giornale con il potere del stato con che ha creato una situazione orribile che ha creato la crisi politica e sociale più seria della democrazia in spagna che ha partito la società che ha diviso completamente oggi la società catalana è divisa completamente divisa che ha fatto che più di 4.000 aziende partano della catalogna tutti i banchi tutto il mondo è partito e quello non era bene e quello si è fatto in nome di una di una di un movimento reazionario insolidario e ingiusto e allora io ho detto no credo che è il mio dovere allora la domanda la domanda sarebbe come condividono questo intellettuale che finalmente dice no o sì come le persone le persone dicono sì o no alla fine questo è bene questo male questo non si fa non si ammazza una persona per esempio non si dire no no non si può essere ambiguo a questo punto nella vita come condividono il l'intellettuale che dice sì no e il romanziere che mai dice sì e no e questa è una vera interessante domanda ma sono parlando troppo ho parlato troppo ma è pericoloso la convivenza tra due tra due tra queste due figure è pericolosa perché l'intellettuale può ammazzare il romanziere può fare che i suoi romanzi siano pedagogici pedagogici o propagandistici questa è la catastrofe e all'inverso il romanziere può ammazzare il cittadino e farlo pensare che non deve dire sì o no a un certo punto ma si deve dire sì o no a un certo punto della vita quando quando le situazioni sono sono dure difficili quando sono tragedie vere una guerra una alla fine si deve dire sì o no questo così io credo che possono convivere tutti e due stimolarsi mutuamente questa è la mia visione cioè il romanziere mostrarle al cittadino che non tutto è così chiaro e il cittadino e porre in dubbio le certezze del cittadino e all'inverso il cittadino può spingere il romanziere ma non è una non è una convivenza facile ma siamo io sono un cittadino finalmente non sono soltanto un romanziere non so se la convivenza dentro di te sia pacifica però credo e chiedo il conforto del pubblico che chi ha letto anatomia di un istante abbia visto la sintesi di queste di queste due anime che denunci se c'è un modo per conciliare queste due anime in anatomia di un istante sì cioè questo essenziale cioè quando quando io era giovane e voleva essere uno scrittore post moderno nord americano e dopo andato in america e ho fatto una scoperta straordinaria la scoperta stato che era spagnolo e cominciato a fare quello che teoricamente facciamo gli spagnoli non la siesta parlare ok quando io era giovane non credeva che la letteratura era utile io era contro assolutamente contro la letteratura utile cioè contro contro l'idea dello scrittore engagé impegnato no questa letteratura era una letteratura per me pedagogica era una letteratura propagandistica cioè il contrario della letteratura e allora io la mia la mia letteratura i miei primi libri sono libri di uno di uno scrittore post moderno tipico cioè libri ironici libri con molto umore fantastici con con giochi metaletterari tutto questo ok oggi non penso oggi sono sicuro che la letteratura è utile la vera letteratura è utile ma si non vuol essere essere utile se è la se la letteratura vuol essere utile allora diventa pedagogia o propaganda e non è utile la letteratura è utile si ha il coraggio di capire di capire tutto capire il peggio e capire non vuol dire giustificare capire vuol dire esattamente il contrario capire vuol dire darci le armi gli strumenti per non commettere gli stessi errori cioè un vero romanziere non direbbe mai in un romanzo un cittadino direbbe hitler è un mostro ok hitler è un mostro non si deve perfetto ma un romanziere che cosa direbbe non direbbe questo un romanziere farebbe una domanda per me scrivere una un romanzo è formulare una domanda complessa della forma più complessa possibile e questo scrivere un romanzo e non dare una una risposta chiara inequivoca tassativa ma una risposta ambigua contraddittoria poliedrica ironica essenzialmente ironica la la risposta è la stessa domanda la ricerca di una risposta la stessa domanda lo stesso libro allora un romanziere davanti a hitler diciamo un gran romanziere un un ok un romanziere direbbe com'è possibile che uno dei paesi più coltivati della terra a sta e non soltanto uno non soltanto uno dei paesi più coltivati della terra ma la metà del mondo ha stato affascinata per quest'uomo perché è stato affascinata perché l'era affascinato il suo paese l'era affascinato il mondo l'europa com'è possibile questo questa questo quello che farebbe un romanziere essi e se questo romanziere sarebbe un dostoevsky un servante su un no e ci farebbe capire perché il paese più uno dei paesi più coltivati della terra e mezzo mondo ha stato affascinato per quest'uomo e per la sua banda allora cominciaremo a avere cominciaremo avere alcuni strumenti o avremo la possibilità di chi qualcosa come hitler non si ripete cioè cioè si qui c'è una bomba in questo meraviglioso posto non basta con dire c'è una bomba c'è una bomba c'è una bomba bisogna qualcuno che qualcuno arriva che capisce questa bomba e che clac disattiva ci vuole l'artificiere tac e questo 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 è la letteratura quello che ci fa capire tutto e per cominciare il male adorno dice ho letto recentemente in adorno una cosa che io ho detto tante volte ma ha detto adorno lo aveva detto prima è più importante capire il contrario della vittima e il carnefice è più importante capire il carnefice che la vittima con la vittima si deve si deve stare si deve la solidarietà l'appoggio la la tutto tutto ma è più importante capire il carnefice per per lottare contro lui perché se tu non capisci il carnefice tu sei perduto tu diventerai una vittima tutto il mondo diventerà una vittima e per questo che serve la letteratura per capire e si deve avere il coraggio di capire perché questi bambini che abbiamo oggi in barcelona duemila diecisette prima della dei bambini di dieci otto anni hanno ammazzato un bambino dieci otto anni ha ammazzato un islamista radicale ammazzato nella rambla di barcelona dieci otto persone con il suo i suoi amici questo bambino nei giornali parlava la gente che lo conosceva i suoi amici la sua la sua mamma non ha parlato ma la sua la gente che era con lui e tutti dicevano la stessa cosa questo bambino era meraviglioso questo bambino era studia studioso amava la sua famiglia era uno dei suoi amici diceva il mio padre mi diceva questo è il perfetto tu devi essere come lui è sempre e lui ha fatto quell'orrore e non basta dire non basta l'unica forma di combattere questa gente e capire perché un bambino così è capace di farse di fare una cosa come questa se non capiamo questo è impossibile compa che combatterlo e a questo serve la letteratura a questo serve un pensiero secondo me se se cercas continua a rilasciare questo genere di dichiarazioni l'etichetta di scrittore civile non te la toglie nessuno perché perché ti proclami e dici sono sono e cerco di essere l'artificere delle bombe della società ad oggi io non sono l'artificere cervante scafka dostoevsky questi sono i veri artificieri proviamo come l'elemento di congiunzione tra la crisi che hai vissuto come abitante di barcellona nel 2017 come spagnolo e che tuttora la spagna vive nasce probabilmente dalla e qui parla il giornalista nasce dalla crisi economica chi governava barcellona aveva un grosso problema di consenso e in quel momento ha trovato nell'indipendentismo una una molla una calamita ma questo però e qui arriviamo alle elezioni di domani questo però è qualcosa che è successo in molte parti d'europa proprio dell'europa che è il continente più colto credici sia questa connessione tra la catalogna quello che è avvenuto in catalogna l'esplosione del nazionalismo indipendentista catalano e il fiorire di tanti populismi muri chiusure che sono cresciute nel resto d'europa andrea io quando parlo della catalogna che un un tema molto per me molto forte molto personale non sono d'accordo praticamente con nessuno neanche con me stesso spesso ma con te quello che hai detto è esatto cioè quando io devo spiegare che cosa succede nella catalogna dico questo che cosa succede quello che succede che succede nella che è successo e che ancora succede nella catalogna non è diverso che quello che succede in italia che quello che succede in francia le sfumature sono diverse ma il movimento è lo stesso movimento che cosa è successo noci nell'occidente secondo me questo il mio analisi io non sono uno storico non sono un politologo sono un cittadino insisto molto importante dire questo perché sebbene è vero che il romanziere e lo ha detto cervantes all'inizio del quixote deve essere un po di tutto un po filosofo un po storico un po tutto no però un po giornalista che cosa è successo è successo una crisi economica brutale terribile 2008 2009 che soltanto si può comprare alla crisi del 1929 soltanto tutti gli economisti tutto il mondo è d'accordo a questo no nell'intensità della crisi e la la crisi del 1929 che cosa ha prodotto che cosa qual è stato il risultato della crisi del 1929 lo sappiamo molto bene l'arriva l'arrivata o la consolidazione del fascismo dei totalitarismi nell'europa e alla fine la seconda la seconda guerra mondiale questa è stata la uscita il risultato di questa crisi e la crisi 2008 2009 è stato un enorme fortissimo movimento sismico come quella del 29 e che ha prodotto il risultato di questo ha stato per fortuna non una guerra guerra terribile come quella grazie fra altre cose a questa cosa che si disprezza tanto che si chiama l'unione europea senza questo probabilmente nelle spagna sicuro avrebbe stato nella catalogna come sai molto bene avrebbe stato una guerra o un conflitto durissimo e quello che ha provocato nel mondo questa crisi è stato questo quello che oggi chiamiamo il nazional populismo che non è il fascismo cioè diciamo il simbolo di questo nazional populismo è ovviamente donald trump questo è l'uomo che ripresenta nel mondo che l'uomo più con più potere del mondo trump non è un fascista ovviamente il fascismo è stata una cosa di un certo momento storico che ha nelle sue ma è una sorte di direbbe di trasformazione del fascismo perché nella storia niente come nella natura niente si crea ne si distrugge soltanto si trasforma e allora è evidente che ci sono alcune alcune cose di quel fascismo di quel fascismo che sono che si manifestano in questo nazional populismo che non è lo stesso in italia che in francia che in la brexit che è una manifestazione evidente di questo nazional populismo che nella catalogna che che nel nord dell'europa ma tutti queste tutti questi tutto ha delle sfumature diverse ma il movimento il risultato di questo grande movimento sismico cioè quello che succede oggi secondo me non soltanto secondo me un'evidenza è che stiamo ripetendo molti degli errori che abbiamo fatto negli anni trenta la credenza dei leader carismatici nelle soluzioni magiche l'indipendenza della catalogna gli immigranti fuori migranti tutto l'euro ai tedeschi sono i colpevoli di tutto senza i tedeschi non c'è problema la brexit fuori dell'europa tutto perfetto ritorniamo l'impero sono tantissime c'è una una frase di bernard show che io amo moltissimo che dice bernard show l'unica cosa che si impara dell'esperienza che non si impara niente dell'esperienza stiamo ripetendo costantemente gli stessi errori una volta e un'altra volta e un'altra volta e un'altra volta la storia non si ripete esattamente mai ma si ripete con maschere diverse e ovviamente questo nazional populismo è una trasformazione una maschera diversa del 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 fascismo del totalitarismo direbbe in generale degli anni trenta e quello che è successo nella nella catalogna è una manifestazione particolare con le sue sfumature particolare di quello che in italia si si manifesta di una forma diversa e in francia di una forma diversa e in inglaterra di una forma diversa ma si deve capire che è lo stesso che lo stesso movimento lasciami dire una ultima un'ultima cosa secondo me l'unica forma di fare alcuna cosa utile con il futuro e avere il passato e su tutto il peggiore passato sempre presente quando tu dimentica il passato soprattutto il peggiore passato tu sei preparato per per ripeterlo e quello che succede oggi nella memoria prima che arrivi antonella ancora una domanda al romanziere se siamo d'accordo che è stata la crisi economica a mutare gli orientamenti politici di buona parte dei paesi europei vuol dire che la democrazia è un privilegio per ricchi è un privilegio per ricchi non lo so probabilmente i paesi poverissimi devono cambiare alcune cose prima di arrivare a una democrazia può essere e quello che è successo tu lo conosci molto bene molto meglio da me quello che è successo nella primavera arabe quando i paesi sono preparati per la democrazia sembra che questi paesi non erano preparati per la democrazia sembra tutto dice questo ma io ricordo molto bene il caso spagnolo spagnolo quando la spagna 1975 franco muore c'erano tantissimi politologi nel mondo alcuni italiani eccellenti non dico il nome che dicevano la spagna non è preparata per per la democrazia 40 anni di dittatura una tradizione dura ma era ma sì alla fine è stato possibile è vero che l'economia è un'economia che non è comparabile l'economia diciamo dei paesi armi non so se un lusso è una necessità per noi è quello che ha dato l'europa la il periodo di più grande prosperità e di libertà e te concordi assurtutto no perché la storia lo dicevamo i giornalisti tu e me anche in questo siamo d'accordo no la 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 storia dell'europa è una storia di guerre costanti su questo si dimentica completamente mille anni di guerre costanti costante sempre in guerra di grandi poteri e io io appartengo alla prima generazione di europei la prima generazione il mio padre ha conosciuto una guerra al mio nonno conosciuto una guerra il mio tutti io no c'è stata la guerra della giugoslavia è vero no non era una guerra tra i grandi grandi poteri almeno ma io come spagnolo la prima generazione e questo è una cosa straordinaria e questo è stato la democrazia quello che l'ha fatto allora e l'unione europea è l'unione europea senza dubbio sì evidentemente e perciò che noi pensiamo che l'unione europea questa cosa che i populisti usano con una demagogia atroce per dire no tutta la cosa senza l'unione europea tutto va bene l'unione europea l'unica utopia ragionevole che abbiamo inventato gli europei l'unica gli europei abbiamo inventato tantissime utopie atroci cioè paradisi teorici diventati inferni reali ma utopia ragionevole quello che ha preservato la prosperità la concordia e la democrazia senza l'unione europea e senza l'unione dell'europa la democrazia in pericolo nell'europa perché l'italia da sola l'espagna da sola i tedeschi da soli non possono luttare contro queste contro questo capitalismo salvaggio che ha un potere globale l'unione europea può farlo ma la spagna da sola no e allora la democrazia non è un lusso è una assoluta necessità ma forse sì è vero che non tutti possono siano questo momento preparati per avere questa questo privilegio non lo so grazie Andrea grazie